salve a tutti io sono marco quanto è strano e questo è il mio primo video in italiano e oddio parlare in italiano sembra addirittura quasi molto più imbarazzante che parlare in inglese comunque io sono marco dopo una dopo una grossa richiesta di messaggi che ho ricevuto su instagram e sui commenti di youtube ho deciso di creare almeno una volta a settimana un video speciale in italiano per i miei fan italiani che per loro sono la maggior parte e che quindi possa rendere loro una visione più veloce e sicuramente migliore mi presento come ho fatto nel mio primo video e l'ho fatto in inglese e molti di voi magari non hanno capito sto cercando adesso di aggiungere anche i sottotitoli io sono marco mi chiamo marco delia sono uno studente dell'università di verona ho fatto il liceo linguistico quindi conosco bene le lingue straniere e attualmente studio digital marketing per imparare a creare un business online lavoro come modello per delle agenzie qui in italia e grazie ai concorsi che ho vinto come mister italia e gli star model international a miami sono riuscito a avere una piccola carriera nel mondo della moda e che pian piano mi porterò cercando di arrivare all'estero il mio obiettivo è quello quindi di arrivare negli stati uniti attraverso questo mio business online che mi sto creando il mio blog e questo canale youtube e il mio instagram ad arrivare a ottenere un piccolo guadagno passivo che mi permetta di andare negli stati uniti dove ho maggiore possibilità di avere successo come modello e pagarmi un buon corso di recitazione fatto bene per diventare un attore professionista questo sono io e niente questo è solo un video per presentazione personale cercare di farvi capire un po che anche che anche se creare un video in doppia lingua è abbastanza difficile perché comunque ci vuole il doppio del tempo ci vuole il doppio di editing eccetera spero di riuscirci e all'inizio creerò un video a settimana come ho già detto un video speciale prenderò il video che è andato meglio durante la settimana in inglese e lo tradurrò semplicemente in italiano lo metterò penso il sabato la domenica e per il resto continuerò con i video in inglese e i video workout questo sono io e lasciatemi sapere nei commenti cosa ne pensate iscrivetevi al canale e ci vediamo ragazzi al prossimo video